Pacchino ha sottoposto all'obbligo di dimora ma beccato con la droga in casa, ha segnalato 33enne. Nel pomeriggio di ieri agente del commissariato di Pacchino insieme alle unità cinofili antidroga di Catania hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione del traffico e l'esito di sostanze stupefacenti nella circostanza a seguito di perquisizione locale presso l'abitazione di un uomo di 33 anni in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora lo stesso è stato trovato in possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti e pertanto segnalata alla competente autorità amministrativa.